Siamo alla premiazione di questo campionato che ha visto una grande energia e grande emozione e grazie alla BRC e ai tanti sponsor e ai partner abbiamo visto delle immagini veramente emozionanti. Soprattutto questo gruppo di aziende ha portato il nome e l'eccellenza del nostro territorio in giro per l'Italia e il prossimo anno, come abbiamo sentito, lo porterà anche in giro per il mondo. Quindi veramente un grazie e complimenti a queste aziende che in questo momento economico difficile stanno dando lavoro a tante persone ma nello stesso tempo riescono a portare le nostre eccellenze, il nostro territorio, le nostre specialità in giro per l'Italia e per il mondo. E poi soprattutto lo fanno con l'energia pulita, con il gas, con il GPL, che sicuramente tutto questo fa anche molto bene all'ambiente. Siamo qui in questa bella struttura per una manifestazione interessante e importante per la nostra azienda e per la città di Chiarasco. Stiamo facendo la premiazione di una stagione 2012 che è partita nel mese di aprile e che ha avuto la sua chiusura ad Adria nel mese di settembre. Un sacco di amici, un sacco di sponsor, un sacco di gente che ci vuole bene e abbiamo divulgato, se vogliamo, gli obiettivi, ci siamo posti degli obiettivi all'inizio della stagione e chiaramente li abbiamo raggiunti tutti. Gli obiettivi di comunicazione, volevamo dimostrare che il gas era performante, che era sicuro e quello è stato raggiunto in piena. Gli obiettivi tecnici, per cui abbiamo testato i prodotti che poi si troveranno sul mercato, sulle nostre macchine, nella condizione di stress delle corse. Un obiettivo anche più ludico, se vogliamo, quello del divertimento, perché siamo tutti appassionati di auto, da corsa e ci siamo divertiti un sacco quest'anno. Bene, eccomi qua, vi parlo non da vincitore, ma ho vinto. Sono arrivato primo in campionato, ma non ve lo voglio dire che sono arrivato primo. Vi vorrei dire che sono arrivato primo, però lascio perdere, è un dettaglio. Sono arrivato primo, non so se l'avete capito. Sono strafelice di essere qua, adesso parliamo un attimo seriamente, non solo per il fatto che sia arrivato primo, ma anche perché ho trovato una famiglia straordinaria. La BRC è una famiglia, è stata un'esperienza bellissima, straordinaria. Mi piace usare questo termine straordinario, ma veramente l'aggettivo giusto per definire questo tipo di competizione. È straordinario dire che un altro anno, io in anteprima ve lo dico, rifarò questo campionato. Ci saranno un sacco di novità che io non posso svelare, ma voi continuate a seguirci con la vostra TV perché ne vedrete come si dice delle belle. Io vi saluto, ma ne riparleremo ancora, come dico a striscia. Jimmy Ghione, striscia alla notizia, BRC. Ciao. 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 Grazie a tutti.